L'avvocato di Cristiano Ronaldo, Peter Kristiansen, ha affermato che i documenti su cui si basa l'articolo dello Spiegel, che ricostruisce le accuse di stupro di Katrin Majorga, sono stati manipolati o creati per screditare il suo assistito. Kristiansen ha ammesso che Ronaldo trovò nel 2009 un accordo privato con Majorga e che la pagò per non rendere pubbliche le sue accuse di averla stuprata pochi mesi prima, ma ha detto che lo fece solo sul consiglio dei suoi avvocati per mettere fine alle incredibili accuse che gli venivano mosse ed evitare che qualcuno le potesse usare per distruggere la sua carriera e la sua reputazione. Lo Spiegel, che ha raccontato per primo dell'accusa di stupro a Ronaldo, aveva scritto di aver ottenuto decine di documenti e di mail che testimoniavano l'accordo tra il giocatore e la Majorga e che alcuni di questi sembravano contraddire la versione di Ronaldo, che tra i due ci fosse stato solo un rapporto consensuale.